Il meglio dell'arte del mosaico contemporaneo e delle nuove tendenze interpretative si è dato appuntamento a Villa Paris di Roseto degli Abruzzi per la sesta edizione di arte in acte che si aprirà sabato 14 luglio. La rassegna è organizzata dalla Fondazione Cingoli in collaborazione con il MAR, il Museo d'Arte della Città di Ravenna e il Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico ed è stata curata da Linda Knitz e da Daniele Torcellini che sono anche gli ideatori del concorso nato nel 2011. Il GAEM, Giovani Artisti e Mosaico, infatti ha come obiettivo quello di portare alla luce le ricerche di artisti under 40 che adottano il mosaico come mezzo espressivo. Il concorso a cadenza biennale è rivolto ad artisti che propongono opere realizzate nei metodi tradizionali del mosaico oppure con materiali e tecniche non convenzionali che abbiano però nell'estetica musiva un punto di riferimento. Art in Act ha ricevuto il patricinio della Presidenza del Consiglio, della Regione Abruzzo, dell'Amministrazione Provinciale di Teramo, della Locale Camera di Commercio e del Comune di Roseto degli Abruzzi. La mostra chiuderà i battenti il 31 di ottobre. Art in Act è una rassegna di arte contemporanea che oggi compie sei anni. Quindi siamo partiti con un festival di confronto tra le diverse forme d'arte e siamo approdati a delle collettive di livello internazionale che continuano a stimolare questa riflessione sulla molteplicità dell'arte e in questo caso appunto con il mosaico c'è ancora di più questa voglia di far capire la complessità. Perché? Perché il mosaico è mettere assieme materiali diverse, culture diverse, forme diverse, tutte assieme, ciascuna con una propria storia, ciascuna con un proprio colore e con una diversa reazione sotto la luce. Il mosaico che riesce ad essere ancora attuale, ancora una forma d'arte contemporanea? Assolutamente sì, a mio parere nei contenuti sociali anche, perché è il melting pot dell'arte, tutto insieme, paradossalmente tutto diverso ma tutto perfettamente amalgamato e anche nella sua formalità che non è mai scontata, perché sembra partire dalle due dimensioni ma alla fine riesce a rompere la terza dimensione e secondo me a includere anche il tempo perché è un'arte che sta a cavallo tra il passato e il futuro.